Oggi parleremo della pesca alle vongole veraci, una pesca fantastica per chi ama il contatto con la natura e anche molto soddisfacente in quanto può farci ottenere ottimi risultati in poco tempo considerando che questi bivalvi vivono in colonie abbastanza numerose. Iscriviti al canale e lascia un like per sostenere il nostro lavoro. Le vongole veraci sono ottime per le proprietà contenute al loro interno, tra cui troviamo la vitamina B6, la vitamina A, la vitamina C e non solo, squisite anche dal punto di vista culinario, essendo nettamente superiori alle qualità di allevamento. Sono facilmente riconoscibili da un particolare inconfondibile. Interagisci con noi nei commenti e scopri come distinguere una vongola verace da una di allevamento. Guarda questo video fino alla fine ed osserva tutti i particolari, imparando anche tu, insieme a noi, questa semplice tecnica di pesca. Cerchiamo questo prezioso mollusco bivalve su fondali sabbiosi, misti a fango, in zone poco profonde. Ecco la tana della vongola verace. Questi due buchi vicini tra loro stanno ad indicare la presenza di una vongola ad appena pochi centimetri sotto la sabbia. I buchi rappresentano i sifoni della vongola che servono al mollusco per nutrirsi, respirare e riprodursi. Con un po' di esperienza si può imparare a determinare la grandezza della vongola ancor prima di scavarla, osservando semplicemente il diametro dei buchi creati dai sifoni. Spesso la troviamo 10-15 centimetri sotto la sabbia, ma arriva a scavare anche a 30 centimetri di profondità ed oltre, in base alla durezza del fondale. Possiamo riconoscere subito una zona di vongole dalla presenza di numerosi buchi sul fondale. Rispettiamo la natura, raccogliendo solo gli esemplari dai 22 millimetri in su, permettendo la regolare riproduzione di questo prezioso bivalve. Donaci il tuo supporto con un piccolo gesto, iscriviti al canale e lascia un like per darci modo di mostrarti nuovi contenuti. Ci vediamo presto su Pesca in mare!